Quell'obiettivo a tutti i nostri tifosi, a noi in primis, ci è rimasto in testa. Se non sarà quest'anno, sarà, spero, tra qualche anno, ma sicuramente sarà l'obiettivo. L'obiettivo della salvezza, credo che in questo momento non lo voglio neppure pensare, ma non lo voglio pensare neppure fra qualche anno. Per noi fra qualche anno l'obiettivo è quello, senza dire cosa, ma è quello. E prima o poi Teramo dovrà andare su quello, perché lo ha dimostrato che lo può fare, perché noi lo abbiamo vinto. Nella vita, molte volte, le persone vanno premiate. Loro, in quel momento, andavano premiati. Però poi succede che quel premio ti rilassa, perché se tu devi conquistare un qualcosa, ti impegni tanto per poterlo conquistare. Poi dopo che l'hai conquistato, potresti che ti stufi e la lasci quel qualcosa. Quindi sicuramente ad alcuni ha influito negativamente. Volete sapere come mi piacerebbe giocare a me col 4-3-3? Adesso, se proprio ve lo devo dire, a me piacerebbe giocare col 4-3-3. Ma ci stiamo avvicinando, quindi piano piano ci avviciniamo. Perché purtroppo, per poter sicuramente trovare l'amalgama giusta, per me è facile dire. Ma poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo i calciatori, c'è di mezzo il tempo per poter sicuramente metterli in mezzo al campo. Ma io penso che prima o poi ci arriveremo. Questa è una squadra che fin quando non ci diranno i punti o i non punti, che non ci ridanno o ce li ridaranno, oggi deve pensare a salvarsi, glielo ho detto, e basta. Di partita in partita, domenica voglio tre punti, in casa voglio tre punti, e poi vediamo che succede. Perché le prossime due partite per noi sono indispensabili, perché dobbiamo riportare a casa sei punti.